E' bellissima, non è vero? Già Sai, non dovresti perdertela Tu va, ti copro io No, 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 no Mio signore, non sono una ladra Vedete, gli dèi hanno mandato a me la visione di rendere loro omaggio dal tempio per guidarli fin qui Il mio unico desiderio è servire gli dèi Londra, è il tuo villaggio Com'è fatto? Mi piacerebbe vedere queste cose Le nostre case vanno benissimo Sono arrivati i guerrieri Forse non è troppo tardi per impedirlo Devi venire con me a parlare con mio padre